L'anticiclone ancora tiene, non per molto, però quel tanto che ci garantisce un fine settimana all'insegna del tempo stabile. Infatti prevediamo un po' per tutte le zone del Padovano, un fine settimana all'insegna del sole, inizialmente abbiamo un po' di velatura del cielo, il pomeriggio qualche cumulo, ma ripeto, tempo stabile. È un anticiclone però che non durerà molto, quindi da domenica a sera cederà un po' gradualmente le armi e quindi avremo un peggioramento sensibile da lunedì. Ecco, annunciamo che da lunedì ci sarà una possibilità per il passaggio di un sistema perturbato di qualche precipitazione che si diffonderà sempre di più. Lunedì e martedì poi una pausa e poi per fine della prossima settimana ancora un peggioramento, quindi si preannuncia una settimana abbastanza variabile. Comunque per questo fine settimana i venti ancora deboli, di azione variabile, tendenti a provenire da ovest, quindi comincerà poi da fluidaria umida. Le temperature ancora 13-15 gradi le minime, le massime 24-25-26 gradi. Segnaliamo che da lunedì ci sarà un temporaneo, repentino abbassamento delle temperature anche di 3-4 gradi. L'alta triatico per questo fine settimana è previsto inizialmente poco mosso, quasi calmi, poi la tendenza è al mosso. È tutto.